Il Salone del Mobile è il più grande evento mondiale del settore firistico e noi siamo ovviamente onorati di ospitarlo ormai da 50 anni. Questo evento di fatto è l'anteprima di Expo, lo è da sempre e sicuramente questo sarà il primo grande evento, il più grande evento che Milano ospiterà appunto nel 2015 come lo è sempre stato per tutti gli anni. Quest'anno una grande novità che attraverso quel biglietto del Salone del Mobile sarà integrato il biglietto dell'ATM, quindi un'ulteriore facilitazione ai visitatori del Salone del Mobile che sono tantissimi e quindi evidentemente il Salone del Mobile con la sua organizzazione sta migliorando sempre cercando di facilitare il suo accesso a questa grandissima manifestazione.